Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Questo me l'ha insegnato Danny Budman T.D.Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di America, sei anni su quella nave, 5-6 viaggi ogni anno dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano. Noi suonavamo musica. Lui era qualcosa di diverso. Non esisteva quella roba. Prima che la suonasse lui ok, non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava dal piano, non c'era più. E non c'era più per sempre. Limpida e inspiegabile. Come solo era la musica. Quando in mezzo a l'oceano la suonava il pianoforte magico di Danny Budman T.D.Lemon 900. Perciò che non vorrei avvalteriore il pianoforte magico di Danny Budman T.D.Lemon 900. Perciò che non si vedeva molto grazie a un aggiornamento mangiare il pianoforte magico di Danny Budman T.Doolbaum